Ma voi avete veramente dei seri problemi? O siete bigotti oppure veramente non riuscite a connettervi minimamente in modo empatico con gli altri esseri umani, con persone che vivono la loro sessualità in modo libero, senza dover per questo fare esibizionismo, perché Pride sono ormai dei luoghi molto sovri dove si celebra l'amore sotto ogni aspetto. L'amore è una cosa espansiva che dovrebbe riguardare tutti, che dovrebbe investire in modo univoca e trasversale al di là dell'orientamento sessuale e invece voi ne volete fare un fenomeno da baraccone. Fenomeni da baraccone a mio avviso sono quelli dove si va ancora a fare il saluto romano, ad igneggiare ad una pseudo razza o a fare differenze e discriminazioni di ogni tipo per sentirsi importanti. Le persone che continuano a fare questi discorsi sono persone che sono vittime di se stesse, che probabilmente hanno avuto una educazione ultra repressiva e che le ha rese quello che sono, perché se no non si spiega altrimenti siete incapaci di poter accettare il fatto che gli altri manifestino in modo libero la loro diversità. Ma come fate ad essere in questo modo veramente? Questa è una domanda quale non riuscirò mai a rispondermi per la mia forma mentale, dove sono stato educato e cresciuto nell'accettazione delle diversità, nell'amore per la diversità. La diversità è una ricchezza, così come lo è la biodiversità, al di là delle monoculture. Voi vorreste trasformare il mondo dentro la vostra gabbia nella quale hanno chiuso voi, perché se no non si spiega altrimenti perché accettare i diritti di persone che hanno orientamenti sessuali diversi al vostro non significa che voi dovete cambiare orientamento sessuale, signori. Su questo non è più accettabile che voi facciate discorsi a minchiam di questo tipo nel 2024. E poi andateci, il Pride oggi sono delle manifestazioni meravigliose, sono simpatiche, leggere, goliardiche, scherzose, dove veramente si respira un clima di felicità e di futuro, al di là di quelle manifestazioni cube fasciste, dove invece si respira tutt'altro, si respira personalmente la paura di chi è incapace di adattarsi al mondo nel 2024. Questa è la difficoltà. State manifestando la vostra difficoltà di accettare l'impermanenza che è la base della vita. La vita è impermanenza, non la tratterrete voi, volete fermare il treno con il culo, ma non ci riuscirete. Siete solamente un sasso in mezzo al fiume che verrà spazzato via dalla piena del futuro che ci richiama, come ci richiamano nel futuro i diritti umani che saranno completamente applicati. E come ci chiama la transizione ecologica. È tutto alla base della stessa situazione. Chi vuole mantenere lo status quo è nemico dell'umanità, è nemico delle persone, è nemico delle cose necessarie oggi all'essere umano. Questo sistema ci va stretto, con un abito stretto, è il momento di spogliarci e di sposare un'altra via. E mi rivolgo alle nuove generazioni. Aiutatemi nella diffusione di questi contenuti, perché è fondamentale che le persone sappiano che esiste un altro modo di vivere al di là di quello che viene proposto da questo bigottismo disarmante. Inoltre i pride, i primi pride a cui va reso merito e onore per quanto si erano stati discussi e dibattuti, erano persone che riuscivano finalmente ad uscire da un cono d'ombra in cui erano stati relegati per millenni dalla discriminazione vigente in questo nostro punto di vista. I nostri antichi romani da questo punto di vista erano molto più evoluti. Voi chiamate i saluti romani, andatevi a studiare la cultura romana, perché se la studiate capireste che in realtà erano più vicini a quelli che fanno il pride, a voi che fate il salutino così. Siete veramente fuori tempo massimo. Scusate lo sfogo.